grande successo l'ottava edizione della festa della trebbiatura di sant'antuono dal 5 al 7 agosto 2022 dopo due anni ritorna la gioia di una festa che nel cuore di tantissimi rivocazione storica della trebbiatura con macchine decoga la gioia di una festa della trebbiatura di sant'antuono dal 5 al 7 l'inaugurazione con l'immancabile charles gargano ambasciatore degli stati uniti che giunge nella sua terra natia ogni anno da new york protagonista di tanti successi tra cui ricordiamo la ricostruzione dell'area delle torre gemelle musica nelle tre giornate dal 5 al 7 agosto 2022 tanti eventi e dimostrazioni musica 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 quest'anno al famoso locomotore storico al vapore se ne è affiancato un altro un prodigio per l'agricoltura di fine ottocento musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti